Tanta lefferatezza del reato commesso degli arrestati dell'operazione Pecunia, così il procuratore della Repubblica Sergio Lari. Diciamo che è una vicenda che si caratterizza per la violenza che è stata posta in essere e non mi riferisco soltanto alla violenza fisica che caratterizza il reato di sequestro di persone che di per sé è un reato molto grave, ma direi anche la violenza morale che è stata esercitata perché qui viene sequestrato uno steward, una persona per bene, dopo che l'organizzazione criminale viene a conoscenza del fatto che ha appena ricevuto la liquidazione frutto di anni di lavoro, ma viene sequestrato un giovane che è venuto ad assistere la madre morente ammanata di una grave forma tumorale. Nessuno scrupolo morale, nessun principio, nessuna etica, nessuna compassione. Un individuo il quale poi si rifugia, si barrica in casa presso la madre morente, alla quale non ha il coraggio di rivelare il dramma che gli è piombato addosso e la mafia che interviene costringendolo a versare, perché poi alla fine gli verserà una somma di 5.000 euro, addirittura gli viene tolto perfino il computer personale, cioè siamo proprio a livelli, se si consente, infimi. Quindi la totale mancanza di compassione nei confronti di un figlio che va a assistere a una madre ammalata gravemente. Direi che si sono toccati i più infimi livelli di mancanza di etica, di morale e di violenza. Quindi l'esecuzione di questa misura cauterale credo che sia un fatto che dobbiamo salutare con soddisfazione, perché coincidono perfettamente valori etici e valori giuridici, quindi dobbiamo ringraziare la squadra mobile che ha agito con grande professionalità nel sviluppare le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di Gatti e nel trovare riscontri adeguati a quelle dichiarazioni.